Amici di saper fare, quante volte capita che dobbiamo riempire una piccola vasca di acqua, un vassoio, un contenitore, e magari in quel momento non siamo presenti e quindi abbiamo la preoccupazione che questo vassoio si riempia d'acqua, un recipiente o quello che sia, e che giustamente poi l'acqua si butta fuori e quindi è uno spreco. Ebbene, oggi costruiremo un allarme per vasca, attraverso dei componenti, dei transistor BC547 e dei fili che fanno da sensore, faremo un allarme in modo che quando si sta per riempire la vasca emetterà un suono e quindi ci avviserà di questo imminente riempimento della vasca. Oppure potremmo anche collegare addirittura un relais al posto del suono o dell'illuminazione a led che possa, diciamo così, interrompere un'alimentazione ad esempio di una pompa che sta erogando appunto l'acqua in quella vasca. Andiamo a vedere come si fa, sono pochi componenti e vediamo subito il circuito. Per realizzare questo allarme per vasca, quindi dobbiamo procurarci 4 transistor BC547, iniziamo a prendere questi transistor, ne mettiamo 4 vicini, la vista di fronte del transistor, questo è un visuale di fronte, ovviamente abbiamo poi i vari pin di uscita, perfetto. Adesso li colleghiamo tutti, poi vi dirò praticamente qual è l'emittitore, il collettore e la base. La base è quella centrale, questo già ve lo dico a priori e appunto nella base verranno applicati dei fili di una determinata lunghezza che poi andremo a vedere. mentre l'ultimo praticamente, poi nell'uscita del collettore andremo a collegare un buzzer. Allora abbiamo base, emettitore e collettore, quindi collettore, base, emettitore, collettore, base, emettitore. Perfetto, a questo punto abbiamo collegato tutti gli emettitori dei transistor BC547, quindi questi sono BC547, e questa sarà praticamente la massa, quindi la utilizzeremo come massa. Ok, adesso collegheremo sui collettori di ogni transistor dei led, quindi andremo a collegare il primo led con il il catodo rivolto appunto verso il nostro transistor, mentre l'anodo sarà poi alimentato attraverso una resistenza, quindi metteremo una resistenza che servirà appunto da 100 Ohm, servirà a limitare la porrente nel diodo in ingresso, questa sarà in 5 volt CC, quindi corrente continua, e a questo punto proseguiremo con l'altro led, sempre con la stessa connessione uguale e identica, e un'altra resistenza da 100 Ohm, collegato in questo modo. proseguiamo sempre allo stesso modo, un altro led, ovviamente i colori dei led saranno rosso, giallo e verde, questo è diciamo così il montaggio che dovrete fare, questa è un'altra resistenza da 100 Ohm, e alla fine invece collegheremo un buzzer, quindi all'uscita del collettore collegheremo un buzzer di cui ovviamente il positivo sarà in alto, questo è un buzzer, e abbiamo praticamente così terminato un po' il circuito elettronico, alle varie basi di ogni transistor sarà applicato uno spezzone di filo, potete fare per esempio un filo in questo modo, adesso vi faccio vedere, sono più di un filo ovviamente, ecco qua, quindi per esempio A, B, C, D, quindi A sarà questo, B sarà questo, C sarà questo, e D sarà questo. Quando praticamente questo sarà il contenitore dell'acqua? Quando questi fili, ovviamente io li ho messi in orizzontale, ma li ripropongo in verticale per capire meglio un po' il funzionamento, quindi A, B, C, D, allora l'acqua si comincerà a riempire, si accenderà prima questo led, poi quest'altro led, poi il led C, e poi ovviamente insieme al led ci sarà il buzzer che suonerà per dire che è arrivata appunto l'acqua a livello del recipiente, e quindi suonerà quest'allarme. Se questo video ti è piaciuto, ovviamente metti un like sul nostro canale YouTube, e se vuoi fare una donazione, abbiamo il pulsante super grazie, fai clic sul pulsante per donarci qualcosa. Vi ricordo sempre di iscrivervi nel nostro canale YouTube, saper fare, attivate la campanella per essere sempre aggiornati nei nuovi video. Ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao!